3 3 3 3 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 9 10 10 10 11 12 11 11 12 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 13 14 15 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 fatti un uomo un numero non può essere visto i numeri i numeri grazie, tenevo contato il bustino e ora si sente occhio il drago datemi la secret questa serve in costello ma gli esiste me li metto da parte giusto così ci sono le bustine in caso di emergenza in caso di drago drago me lo te mi spatterà ragazzi, magari questo può incrementare la luminosità aspetta intanto non so vai e prende la zomiglia di fuoco che non sa rompere ragazzi facciamo un fairfist alternativo per piacere con il livello 5 con il livello 5 con il livello 5 che risposto così vengono da metà solo dai colpo così per sfizio votito un'altra grande ma che scherzo tutte le secret la più merda il signore dei peni volanti e io l'elemento al drago me li metto da parte metto e pur sempre si pur sempre si che la doppia drago si e anche soldi ovviamente in caso lo drago scusa eh certo io voglio voglio di più ci può essere più di una si eh boh lo scopri lo scopriremo in questo non penso però wow mettiamo qua grande shark super vai ancora super oh me c'ha phantom me c'ha phantom merda ah mi ha andare qui cos'è uno shark ragazzi questa è una grande carta ammettiamo ammettiamo perchè è comune perchè è comune e' una gran bella carta io che rimasi impressionato quando vedi il primo sincro commond che è sfinto ampio un culto una legge di notte non ci può essere qualche bug tipo che mettono un bel bella i ragazzi abbiamo quasi finito la prima parte quanto siamo di minuti 42 minuti 4 minuti quasi 5 minuti l'inbox qui ragazzi ma caricaio caricaio non lo vedo ancora stas ma che va c'è l'altro c'è l'altro box c'è l'altro box c'è l'altro box c'è l'altro box e super magico c'è l'altro box quando c'è l'acqua oddio che cosa dico no mas ok c'è l'uomo adoro i draghi c'è l'uomo ma anche voluto che muove schien anche se non fa un bene però picchia di un'uomo trago c'è l'uomo c'è l'uomo c'è l'uomo c'è l'uomo c'è l'uomo la nuova seconda parte c'è l'uomo